Ehi me contro te, dico a voi, voglio lanciarvi una sfida, fate una canzone con me, dobbiamo fare una canzone insieme, un due, un terzi, un quarto, un, va bene quello che è, una canzone insieme, io, con voi, o contro di voi, va bene, accettate, sì o no? Mi conviene dire di sì, parola di perfidia, ehi siete ancora qua, avete deciso? Voglio una risposta, forza, forza, sarà meglio che diciate sì altrimenti per voi, sarà la fine.